Buongiorno da Edo, è il primo dicembre e come ogni anno dal 2015 noi programmatori e appassionati abbiamo il nostro personale calendario dell'avvento da seguire, ovvero Advent of Code. Vi ricordate quando da bambini ci regalavano quei calendari dell'avvento di cartoncino in cui ogni giorno c'era una finestrella da rompere e da aprire e dentro ci trovavamo un dolcetto o un giochino? Beh, da grandi queste cose non ce le regalano più, ma dal 2015 Eric Wossel ci regala ogni anno un calendario in cui ogni giorno fino a Natale ci troviamo un problema da risolvere col codice, di solito a tema natalizio, un problema matematico che richiede di scrivere un algoritmo in qualunque linguaggio per trovare la soluzione e dopo aver trovato la soluzione naturalmente possiamo controllare la classifica per vedere quanto tempo meno di noi ci hanno messo i migliori e far crescere così in modo esponenziale la nostra sindrome dell'impostore. Quindi appuntamento su adventofcode.com e andiamo a vedere quali saranno le sfide di quest'anno. Bene, cambiamo argomento, parliamo di XFCE. Mentre tutti si concentrano sulle luccicanti nuove features delle ultime release di GNOME e KDE Plasma, zitto zitto XFCE sta per uscire con una nuova versione dopo due anni dall'ultima. XFCE è un desktop environment per Linux che a differenza spesso dei due big citati prima punta sul minimalismo e si pone l'obiettivo di essere leggero e veloce ma sempre bello da vedere, piacevole da usare e semplice. La nuova versione 4.18 è in programma per l'uscita il 15 dicembre e quindi vediamo alcune delle novità più interessanti. Partiamo dal file manager che si chiama Tuner e come il resto del desktop punta su leggerezza e praticità. C'è una sidebar per la preview delle immagini che mostra una preview allargata dell'immagine selezionata nel manager in appunto questa sidebar customizzabile. Poi c'è una toolbar sempre personalizzabile che permette di aggiungere e riordinare le icone presenti a seconda dei gusti, un po' come si può fare su Firefox o su Chrome per esempio. Poi c'è tra queste icone un'icona nuova che permette di attivare la split view che letteralmente splitta la finestra del file manager in due navigazioni indipendenti che permettono anche ovviamente di trascinare il file e le cartelle da una parte all'altra. Una cosa piccola ma efficace è la funzione di evidenziazione dei file che permette di settare un colore di background o del testo di un'icona di un file o di una cartella ed è una cosa che per esempio potrebbe consentire di evidenziare dei file particolarmente importanti da qualche parte. Poi abbiamo anche un nuovo supporto per l'undo e il redo cioè per ripensare o annullare un'azione svolta nel file manager che comprende tutte le principali come copia, spostamento, creazione, cancellazione eccetera. E ci sono ovviamente altre nuove feature e la solita pletora di bug fix e improvement vari. Sul fronte invece proprio del desktop, XFCE visivamente rimane il solito classico. XFCE non porta rivoluzioni immediatamente notabili ma piccoli passi avanti qua e là che migliorano l'esperienza complessiva ma senza stravolgere le abitudini della sua utenza. Quindi intanto ci sono dei miglioramenti alle impostazioni del pannello di controllo per esempio ora la lunghezza del pannello è configurabile in pixel invece che in percentuale e poi c'è un nuovo flag per mantenere il pannello sempre sopra le finestre che in pratica fa sì che le finestre massimizzate a tutto schermo riempiono l'area del desktop dietro il pannello invece che restarvi sopra o sotto a seconda di dove lo avete posizionato. E poi ci sono personalizzazioni al widget dell'orologio che permettono di cambiarne il font o il formato di data che sono visualizzati. E si può assegnare un comando personalizzato per aprire il calendario quando si clicca sull'orologio in modo da poter aprire un widget calendario di propria scelta. Anche le impostazioni generali hanno giovato di qualche aggiunta per esempio si possono nascondere gli header delle finestre di dialog oppure decidere un comportamento per il multi monitor anche prima di attaccare un nuovo monitor addizionale. Insomma in generale questa nuova release si porta dietro un sacco di nuove interessanti aggiunte e molti miglioramenti, molti dei quali richiesti da tempo dalla community e inoltre il team di XFCE ha lavorato molto per migliorare il supporto a Wayland. Vi lascio naturalmente in descrizione il link al blog post dove potete approfondire tutte queste nuove feature. E questo era anche tutto quindi grazie per avermi seguito ci vediamo alla prossima, vado a completare il mio Advent of Code e ci vediamo, ciao!